La mia domanda è che lei ha esattamente 30 secondi. Non risponda prima che l'orologio parta. Questo rappresenta la storia. La televisione così come la conosciamo è destinata se non a scomparire quantomeno a cedere il passo. Così come i teleschermi che sempre più faranno questa fine. In compenso si moltiplicheranno gli schermi sempre più piccoli, in movimento e interattivi. Proprio capire come dialogheranno tra di loro è la sfida per il futuro. I think in the next 12 months, it's going to be faster networks, particularly as the next generation of mobile phone networks rolls out, the LTE networks. It's going to be more powerful smartphones. It's going to be a big growth in tablet computing. So, more of us will be carrying screens around with us. Amazon are going to launch a tablet version of the Kindle that will have a colour screen. All that means that many of us will be carrying around very powerful computers and will be walking around environments, homes, offices, schools, shops, which have screens in them. And for me, the real challenge is how these things will fit together. That if I go into a shop that has a big flat screen television, how can I interact with that flat screen television using the smartphone in my hand? If I'm watching a television program, how can I control what's happening there or engage with my friends using my iPad? How do all these different tools start to fit together? Anche la Regione Piemonte si sta muovendo e prova a immaginare il futuro del video. Lo sta facendo da quasi dieci anni grazie agli studi e alle sperimentazioni del CSP. Su questa filiera, quella che si chiama la Networked Media, e che sono frutto di una piattaforma tecnologica europea, il CSP come organismo di ricerca lavora da quasi dieci anni. Tutto un insieme di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata, e di ricerca industriale sul mondo delle Networked Media. Partiamo quindi con le sperimentazioni sulla televisione digitale terrestre per arrivare oggi alle sperimentazioni sulla Connected TV, cioè sulla televisione che assomiglierà sempre di più ad un iPhone o ad un iPad, con la possibilità sia di guardare i programmi televisivi, sia di poter eseguire delle applicazioni, piuttosto che ad applicazioni che mettono insieme diversi visori. Stiamo sviluppando insieme al centro che si occupa di autismo per la regione Piemonte, che è a sede Mondovì, un progetto nel quale, insieme ad un grande tavolo di tipo multitouch e interattivo, dove si possono svolgere attività di gruppo con dei bambini autistici, possono essere accompagnate attività su dei tablet, anche quelli multitouch e connessi per attività di carattere personale, per giungere alle sperimentazioni che stiamo facendo sugli altri media, non ultima a quella che ad esempio stiamo facendo insieme a Radio Maria sui protocolli più avanzati per quanto riguarda la radio digitale. Dal tubo catodico al plasma ai LED, che cosa ci riserva il futuro? Qualcuno prova a immaginare un 3D senza occhialini che sempre di più entrerà nelle nostre case. La scommessa del 3D è cominciata alla fine del 2008, quando siamo venuti a conoscenza di questi monitor della società francese Alioscopi, sono monitor autosteroscopici che consentono quindi di trasmettere dei contenuti realizzati apposta in 3D senza il bisogno di mettere nessun tipo di occhialino, che si vedono praticamente ad occhio nudo, quasi come se fosse il monitor ad avere la capacità di indossare un paio di occhiali, tale per cui può trasmettere l'immagine sinistra e l'immagine destra separatamente, che raggiungendo gli occhi danno la forte sensazione dell'effetto pop out, come viene definito, quindi di fuoriuscita, di estrusione di determinati oggetti, e grande capacità di percezione della profondità. Un'altra applicazione, forse quella che potrebbe avere una ricaduta più importante sul piano sociale, è il fatto di aver considerato che l'immagine medicale, per esempio le TAC, e quindi le scansioni volumetriche che i medici e i radiologi possono oggi fare del nostro corpo, restituiscono in realtà delle immagini che hanno la volumetria, quindi il contenuto 3D. Bisognava capire come fare a tradurre queste immagini che vengono restituite da apparecchiature medicali di altissimo profilo, provare a vedere se era possibile visualizzarle su questo monitor, e dopo aver fatto questo capire se il radiologo in qualche modo poteva averne un beneficio. Grazie per la visione!